Ha staccato il braccialetto elettronico ed è evaso. Il caso riguarda un ristoratore pesarese di 47 anni condannato in appello per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex socia del locale e dell'ex compagna, entrambe straniere. Condanne confermate anche in appello, una a 6 anni e l'altra a 4 anni e 4 mesi. L'uomo ha gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e evaso da casa. Subito, intorno alle due donne vittima di violenza, è scattata la rete di protezione da parte dei carabinieri, che le hanno raggiunte in casa e nel frattempo hanno avviato le ricerche dell'uomo. Ricerche che stanno proseguendo anche nei confronti della coppia di detenuti albanesi che ha fatto perdere le proprie tracce scappando dall'azienda agricola dell'Eiva a Pesaro, dove stavano svolgendo il lavoro esterno al carcere concesso dal piano di reinserimento sociale. Quando sono arrivati gli agenti dei polizia penitenziaria per riportarli nella casa circondariale di Villa Fastigi non c'erano più. Emilian Bici, 43 anni, detenuto in carcere per tentato omicidio e Dermelinda Safiu, 38, entrambi albanesi, sono evasi approfittando del lavoro esterno che permetteva loro di uscire dall'istituto di pena alle 7 di mattina per poi fare il ritorno dopo 8 ore. È accaduto martedì nel primo pomeriggio. Da quel momento sono scattate le ricerche della coppia, estese prima al territorio provinciale, poi in tutta Italia. Polizie e carabinieri hanno controllato le stazioni dei treni e degli autobus, cercando anche attraverso le immagini delle telecamere se i fuggitivi fossero passati in qualche punto di partenza, se tacciate anche le loro celle alla ricerca di qualche indizio che potesse indicare la via di fuga. Non si esclude che potessero avere dei complici con i quali si sono allontanati avendo già una meta sicura, forse all'estero, dove andare per evitare di essere ripresi e riportati in carcere. Epotizzabile che la coppia avesse organizzato il piano di fuga da tempo, potendo contare sugli orari abitudinari, oltre alla dedizione al lavoro che dimostravano di avere nell'azienda agricola didattica che collabora con il carcere di Pesaro per il reinserimento sociale dei detenuti. Il 43enne albanese doveva ancora scontare due anni di pena dopo essere stato condannato per l'aggressione a un 57enne davanti a un bar di Ravenna, quasi sei anni fa. L'uomo era stato colpito con una serie di coltellate nel ventre perché, alla richiesta di ospitare la coppia e un altro amico albanese, aveva detto di no. Le telecamere di sicurezza avevano ripreso la scena. La 38enne aveva afferrato le braccia dell'uomo mentre il marito e l'amico lo colpivano con cinque fendenti. Bici, nonostante un divieto di ingresso in Italia, ed Ermelinda, allora incensurata, erano poi stati individuati e arrestati a Fano a distanza di due giorni. La decisione di evadere cancella tutti i bonus che avevano ottenuto mantenendo una buona condotta. A Safiu mancavano solo cinque giorni per concludere la pena. Ora i due detenuti, in seguito all'evasione, rischiano una condanna che va da sei mesi a un anno.